I nostri microfoni per l'1-2-3 stella, Christian Raimondo, portiere oggi, autore anche di ottime parate, però poco sono servite. Sette gol, un risultato che vi penalizza troppo. Sì, purtroppo sì, la partita è andata bene, però giustamente loro erano molto più in forma di noi. Che posso dire, una partita bella, mi sono divertito. L'importante è sempre divertirsi. Anche per voi, ora ci sono le feste e poi si ricomincia con l'Europa League. Che cosa vi aspettate dalla fase finale? Noi puntiamo all'Europa League, pensiamo di portarcela, mettiamoci testa e vincere. Ringraziamo Christian Raimondo per l'1-3 stella, a più tardi con un altro match. Amici del Tornese del Tatebello, buongiorno, si è appena conclusa la partita del Girono C tra Game Over 1-2-3 stella con risultato di 7 a 1. Sono con Matteo Sottile, oggi migliore in campo, autore anche di 4 gol che hanno contribuito alla vittoria della tua squadra. Una partita affrontata con la giusta concentrazione, anche se non era valevole fino al passaggio del club. Sì, sì, però ci tenevamo lo stesso, il migliore secondo, e il pensamento, diciamo, migliore di incontrare altre squadre. Comunque ci tenevamo a chiudere bene il giro, ci siamo riusciti. Un primo tempo un po' sottotono, poi il secondo tempo decisamente un'altra partita, nonostante anche l'infortunio di Marino. Sì, infatti, speriamo che non ci sia fatta in modo più grave perché ci serve. All'inizio abbiamo stendato perché non riuscivamo a buttarlo dentro. Ma appena l'hanno segnato loro, siamo scossi e poi abbiamo iniziato a giocare, come sappiamo, e poi dopo l'entrata. Di buon auspicio, ora le feste e poi si comincia con la fase finale. Ci crediamo, speriamo, cioè noi ci sentiamo di poter vincere. Non sappiamo delle altre squadre, però possiamo vincere se non andrà. Ringraziamo Matteo Sottile, quest'oggi migliore in campo, a più tardi con la tua tegoristi giorni.